beh sei impisato o no? si c'è la lampezza rossa che lampeggia si? da voi vai aspetta perché non devo perdere la cosa cosa? attività è passata è passata che sta fai? bivia che è di qua però volete farmi andare a sinistra vedi che c'è anche l'equilibrio doveva andare dritto perderemo ma che punta che è lì puoi tagliare le piante guarda signor che cassa? che trivirà adesso entra per l'acqua che tomate si andrò a casa con un quintal di legno ma si andrò guarda che c'è l'uomo di legno ho pa' il culo sono via? chi si andrà in questa strada? guarda 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 guardare guarda 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 Alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti